Non sono una donna da gossip, preferisco essere piuttosto che apparire. Sono Pamela Prati, sono un'attrice, cantante, ballerina, presentatrice, cioè una showgirl. Ho deciso di partecipare al Grande Fratello perché vorrei che uscisse fuori proprio la Pamela che voi non conoscete. Sei dolce, timida, sensibile, forte. Le staffe le perdo se non dormo e non mangio. Come i bambini, io devo mangiare e dormire e così sono un angioletto. L'amore è la vita, per fare l'amore devo essere stra-innamorata, devo essere proprio innamorata, se no, no. Non bisogna mai prendersi sul serio e quindi sono come tu mi vuoi, sono come tu mi vuoi. La mia amica Valeria che serve come me, amore sto meglio così o così. Mi ti chiamo dopo e mi chiama domani. Come tu mi vuoi. Rullo di tamburi Pamela, sei la prima ad entrare e ad aprire la mitica porta rossa. E vai, vai. Vai, vai. Rullo di tamburi Pamela, sei la prima ad entrare e ad aprire la mitica porta rossa. E entro pure. ciao a cosa ci sarà come sarà